Beh, di nuovo buon terroir a tutti e adesso vi presento i champagne che saranno presenti a marzo al Merano Wine Festival. Abbiamo quattro champagne di zone differenti e con caratteristiche differenti. Beh, ma una caratteristica invece è assolutamente paritetica. Tutti quanti hanno una caratteristica ben specifica. Sono dei recultan manipulanti. Io ci tengo a spiegarvi bene che cos'è recultan manipulanti e quindi visto che questo video è un modo anche per tenervi compagnia, un gioco per parlare di un Merano Wine Festival che è stato rimandato, vi racconterò che cos'è un recultan manipulanti e ve lo racconterò come mi piace raccontarlo normalmente quando faccio una serata sugli champagne o una lezione. Immaginatevi due tipi di ristorante ben diversi. Un ristorante che è un negocian manipulant, colui che da Sevese dice esattamente è colui che può comprare le uve e produrre dello Chopin, produrre del vino da uve acquistate o da uve di proprietà se ne possiede. Quindi vuol dire che io potrei non avere nessun tipo di vigna, non avere neanche mille metri di vigna ma posso produrre lo champagne. I negocian manipulanti sono i grandi brand che comunque hanno una caratteristica straordinaria, quella di riuscire a fare un prodotto che ogni anno, parlo del prodotto base, che ogni anno ha la stessa qualità. È un po' standardizzata se mi permettete. Io chiamo l'anima d'un terroir, l'anima di uno champagne che esprime in questo suo liquido meraviglioso, esprime le sue caratteristiche organolettiche che sono legate non a com'è l'intervento, dall'interventismo dell'enologo, ma dal non interventismo del produttore che in questo caso è molto attento a rispettare le uve che gli arrivano perché sono uve straordinarie che arrivano cioè dalle zone migliori, i premier crew e i grand crew. Quindi negocian manipulanti, immaginatevi come un ristoratore, un ristorante con una cucina meravigliosa e parla dei prodotti base ovviamente, poi ci sono delle eccellenze indubbiamente sui prodotti di picco, ci mancherebbe, è come un grande brand, è come un ristoratore che ha una tecnologia straordinaria, dei cuochi bravissimi e che riesce a fare un prodotto anche da materia prima mediocre, assolutamente potabile, assolutamente piacevole a volte addirittura. Chi è il recoltà manipulante? La Sevesse lo definisce colui che produce il vino, il champagne, esclusivamente da uve di proprietà e che eventualmente le può vendere ma non ne può comprare. Quindi una netta differenza, io nel recoltà manipulante devo per forza produrre roba da sepage, da uve che arrivano dalla mie vigne, mie o in affitto ovviamente. Quindi c'è l'attenzione del proprietario, si dice che il giardino del vicino sia sempre più verde, il giochino di parola. La verità è che invece è colui che ci vive dentro, che ha l'attenzione, ha la precisione, il controllo e che magari lavora anche fino alle 10 di sera se deve lavorare. Perché? Perché lavora nel suo. Beh ma non basta, non basta. Chi è che ha smesso all'inizio del Novecento, poi a susseguirsi? Chi è che piano piano si è staccato dal vendere le uve e ha deciso di diventare una maison? Beh chiaramente chi aveva delle uve talmente buone da poter provare a sfidare un mercato che era chiaramente monopolio delle grandi aziende e quindi provano a lanciarsi chi ha delle uve migliori. Chi ha le uve migliori? Beh chiaramente chi le cura ma soprattutto chi ha i terroir migliori, chi ha i crew migliori. Quali sono i crew migliori? I grand crew e i premier crew, la scala dei crew, cosa che spesso viene un po' dimenticata. Quindi chi è questo raccoltà manipulante? Eh raccoltà manipulante è colui che diciamo è come questo ristoratore che dicevo che dalla parte abbiamo quello un po' più diciamo con la materia prima mediocre ma che riesce comunque a fare un prodotto straordinario magari o buono. Invece raccoltà manipulante è come una piccola cucina, una cucina ben attrezzata che però ha la materia prima più buona. Un po' come un piccolo ristoratore della Liguria, dove vivo io, che è al contatto col pescatore che gli porta il branzino appena pescato. Oppure un appassionato di carne che si fa arrivare le carni migliori, il cobe, si fa arrivare la chianina, la simmental tedesca, non pensate alla scatola, simmental non è una razza, non è la scatoletta, non fatti turdi. E invece ha una piccola cucina per l'appunto materia prima buonissima ma non basta, non basta, non basta perché non basta avere la materia prima, non basta neanche avere la cucina straordinaria ma roba mediocre ma per essere un bravo recultante oltre alla materia prima straordinaria deve essere bravo a fare lo champagne perché ce ne sono tantissimi di recultante manipulante ma trovare quelli che lavorano bene, veramente bene, è un'altra storia. E qui vi presento quelli che per Francesca Tribori, la mia socia, sono i suoi figliocci quindi non parlate mai male di fronte a lei, scherzo sempre ovviamente, e abbiamo qua Gonesulcova col suo prodotto d'ingresso, Antonino me lo ricordo un'altra delle lezioni che mi fece oltre a svegliarmi alle 4 del mattino per vedere le vigne, mi disse ricordati Andrea che per giudicare e capire un'azienda tu devi sempre assaggiare il prodotto d'ingresso. Qual è il prodotto d'ingresso? Quello che costa meno è che se ne fa di più perché se è buono quello il resto può essere soltanto meglio e questo Gonesulcova è il nostro produttore che lavora nella zona della Cote Blanca, Minil, e poi è l'unico produttore che abbiamo nella zona dell'Obe, per essere precisi a Mongò, ci tengo a dire che è a Mongò, perché nella nostra filosofia o meglio quello che mi ha insegnato a suo tempo Antonino, Antonino diceva che lo champagne è soltanto dove c'è il gesso, questo me lo diceva per ricordarmi che nell'Obe non c'è la cre, non c'è il gesso, c'è il chimeridge, c'è quel terreno ricco di ostriche, mentre quello diciamo dello champagne, della Cote Blanca, della Marna e anche della Notante Rebs è un'altra storia, il gesso e la cre, ricca di benemite, ricco dove c'era un mare poi in definitiva, e questo è Gonesulcova. Poi passando a fianco qui abbiamo l'Armandie Perefis, un'azienda che Didier e Olivier Gimonne dedicano esclusivamente alla madre con dei vini straordinari perché ricevono dalla mamma, dal nonno, delle straordinarie vigne in Craman e vi ho portato e vi porterò, vi farò assaggiare questo Craman Grand Cru che è un prodotto che sentirete, un blan de blanc che arriva da un unico villaggio Grand Cru, come dicono i ragazzini e tanta roba, più di 60 mesi sui lieviti, questo non è un prodotto d'ingresso, è un prodotto tra l'altro un millesimato non dichiarato e vi farò vedere come capire che è un millesimato non dichiarato e sentirete la potenza, la forza dello Chardonnay nella sua migliore espressione nella zona forse più importante, assieme a quella di Minili sicuramente è la più rinomata, io assaggiandoli ultimamente proprio come un Didier e mi fece assaggiare, mi ha fatto assaggiare una serie di champagne in microvinificazione di ogni villaggio, quando mi ha detto Andrea per favore prova a immaginarti uno strumento musicale per ogni champagne, per ogni blan de blanc, mi ha fatto assaggiare Choui, mi ha fatto assaggiare Ogier, mi ha fatto assaggiare Minil e poi mi ha fatto assaggiare per l'appunto Craman alla cieca e quando ho assaggiato Craman gli altri ho detto la tromba, la batteria per Ogier che è molto grande, la finezza di Choui e quindi il violino, quando ho assaggiato questo ho detto pianoforte, beh vi aspetto per farvelo assaggiare, per farvi capire cosa è detto. Poi passiamo da Philippe Secondè con la sua azienda, Barnaud e questo invece è un'espressione che, se qua abbiamo avuto l'espressione della Cote Blanc, qua abbiamo un'espressione della Montagna di Remse con un pinot nero in Blanc de Noir, quindi bianco da nero, Blanc de Noir, qui un pinot nero in purezza in Gran Cru, sentirete la forza di questo Choui, di questa finezza incredibile che Philippe Secondè riesce a esprimere nei suoi champagne. È un prodotto che anche questo parla da sé, spesso mi dicono ma tu parli così bene, dici queste cose così interessanti, ma la verità è che poi tutte queste belle parole sul vino, se non c'è quello che c'è qua dentro e se io non racconto quello che c'è davvero qua dentro, poi rimane una roba priva di senso. Ultimo, ma assolutamente non ultimo, beh il produttore con la mano più, uno degli produttori con la mano più elegante che io conosca, siamo nella Marna, nella zona diciamo vicino, anzi in Maroie, che è un premier cru al 99%, significa che mi manca uno scatto per diventare Gran Cru. Lui è nella zona che spesso viene citata, si chiama la mano della Remse, la zona dei Pinomonie. Beh, ci tengo a dirlo, il Pinomonie nei nostri prodotti non è presente, spesso mi dicono ma Andrea perché tu non apprezzi il Pinomonie? Per l'amor di Dio, Pinomonie ha un suo perché, ma io vi dico qual è il suo perché, ed è lì perché è in certi posti. Beh, la verità è che se alle 4 e mezza del mattino mi sono svegliato per vedere dov'è che spunta il sole, ho visto anche dov'è che il sole non arriva, o meglio arriva tardissimo, e quindi le zone dove c'è il più grande rischio di congelamento. Parliamo di 49esimo parallelo, tra 49esimo e 50esimo. E lì i rischi di congelare, di gelate, è fortissimo. E quindi assaggiamo, cioè assaggiamo, capisco questa cosa, mi spiega questa cosa Antonino e mi dice vedi lì è la zona in cui i produttori giustamente hanno cercato un vitigno che reggesse il gelo. E hanno messo il Pinomonie, adesso lo chiamano tutti i Pinomonie, si chiama così il Pinot del Mugnaio perché ha una pruina bianca, sembra che sia sporco di farina. Ci tengo a dirlo perché io lo trovo di una qualità differente, un po' lontana da quella del Pinot Nero e dello Chardonnay, tanto che nelle sue massime valutazioni, nel momento in cui viene fatto le aste delle uve e viene fissato un prezzo delle uve, solitamente è decisamente al di sotto del costo dei Pinot Nero e dei Chardonnay, parliamo quasi del 50%. Quindi un prodotto, un'uva con delle qualità intrinseche inferiori rispetto a quella del Pinot Nero e dello Chardonnay, a mio avviso, questa è la mia opinione, però suffragata dal fatto che costa meno, suffragata dal fatto che non esiste un gran cru dove possa essere presente e perché i produttori quando hanno delle zone straordinarie non ci mettono mai in Pinomonie? Beh, io queste domande me le sono poste e mi sono dato una risposta e poi me la sono andata soprattutto assaggiando. Ma tornando al nostro amico Jean-Paul, l'azienda Marche Berard, Jean-Paul Berard, portiamo una cosa straordinaria, vi portiamo ad assaggiare un prodotto che nasce con il gusto decisamente italiano, Selection, con il 70% di Pinot Nero e il 30% di Chardonnay, siamo tutte uve che provengono da vigne piuttosto anziane, vigne vecchie, e fatte un po' più col gusto italiano perché ce l'ha fatto con un dosaggio di zucchero al 3,5, quindi un Extra Brut, infatti ce lo scrive proprio, vedete qua c'è scritto chiaramente Extra Brut, quindi Marche Berard si presenta con questo, presenterò di Marche Berard, questo champagne straordinario, di una finezza incredibile, a chi ha assaggiato finora questo champagne è rimasto molto colpito dalla qualità, dalla straordinaria qualità di questo champagne, e quindi io vi aspetto, perché vi piacerebbe che voi aveste l'occasione, scusatemi, faccio un po' di spazio, voi aveste l'occasione di vedere che le mie belle parole su questi champagne non sono dettate soltanto dal fatto che io ne sono uno degli importatori, ma perché, e uno intendo in mezzo ai miei soci, perché le mie parole sono vere, e voglio farvelo capire di persona, quindi vi aspetto al Merano Wine Festival, dove spero che vi farò innamorare, come mi sono innamorato io, dello champagne e della champagne, un posto straordinario. Beh, per adesso vi saluto con il mio solito buon terrore a tutti. Grazie a tutti.